L'attraversamento di un animale è una delle cause dell'incidente mortale avvenuto lunedì sera sull'autostrada A14 all'altezza di Tortoreto dove ha perso la vita Elisa Rubini, 51 anni, di Alva Driatica, che viaggiava a bordo della BMW, condotta dal marito, Guglielmo Marconi, 65 anni, noto penalista teramano, ricoverato in neurochirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo. La polizia autostradale, infatti, sta vagliando la versione fornita dal conducente, subito dopo l'incidente, secondo cui un animale avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata. La BMW avrebbe saltato il New Jersey finendo sulla corsia opposta, quella sud, colpendo altre due autovetture, una delle quali, ribaltandosi, sarebbe caduta sulla BMW dell'avvocato. Impatto che è stato fatale per la moglie di Marconi, che viaggiava sul sedile posteriore della macchina. I mediati soccorsi, ma inutili per la donna, Elisa Rubini è morta poco dopo l'incidente per il forte trauma cranico e per la violenta emorragia a causa delle ferite riportate. Sulla dinamica indagano gli agenti del COA di Pescara. Guglielmo Marconi, docente in pensione di diritto penale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo ed ex presidente Banca Caripe, già componente del comitato esecutivo di Banca Tercas, ieri pomeriggio è stato sottoposto a un delicato intervento a causa della frattura di una vertebra lombare che avrebbe potuto portare danni celebrali e conseguenze agli arti. L'equip di neurochirurgia dell'ospedale Mazzini, diretta dal primario Danilo Lucantoni, ha stabilizzato la frattura della vertebra e l'avvocato Marconi è ora fuori pericolo di vita. Ferite lievi per gli occupanti delle altre due autovetture coinvolte nello schianto, che hanno riportato solo abrasioni, tagli e lievi traumi, oltre allo spavento. Il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta sull'incidente e nelle prossime ore deciderà se eseguire l'autopsia sulla salma della donna che è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo.